Il comune di Avellino si libera dal fardello delle strutture pubbliche e prepara i bandi per affidarne la gestione ai privati. Tra 10 e al massimo 15 giorni l'avviso per la manifestazione di interesse pubblico. Parte da questo passaggio la prima e stessa operazione di spending review dell'amministrazione comunale. Dare in gestione ad associazioni cooperative o anche al singolo cittadino quelle strutture che finora hanno costituito solo una cospicua voce di costo per il bilancio di piazza del popolo. Gli affidatari infatti dovranno provvedere al funzionamento degli immobili avranno anche il compito di effettuare nella manutenzione la custodia. Due attività che al comune di Avellino pesano molto in termini di impegno ma che soprattutto costano complessivamente diverse centinaia di migliaia di euro ogni anno. La novità è emersa ieri nel corso del consiglio comunale quando la mozione di gestione partecipata presentata dai consiglieri Arace e Giordano per Parco Santo Spirito non è passata. Si invece all'istituzione del parco urbano fluviale del Fenestrelle all'integrazione della carta dei servizi sociali del comune capoluogo e alla partecipazione alla gestione della biblioteca provinciale di Avellino da parte dell'ente. Intanto si è consumato anche il primo scontro sull'adeguamento del piano urbanistico in attesa di un'assise ad hoc che dovrà occuparsi solo di come armonizzare le linee guido originali alle nuove esigenze della città. Sull'argomento è palese la spaccatura tra opposizione e maggioranza e in realtà anche nell'ambito di quest'ultima con pareri discordanti proprio sul percorso da intraprendere. L'ultima volta che gli indirizzi del PUC approdarono in consiglio la minoranza abbandonò l'aula. Se prima di ritornare sull'argomento non si raggiungerà un accordo sul metodo il rischio che ciò possa ripetersi è molto elevato.